Ciao sono Giussi e Nelbera mi occupo di formazione e comunicazione scientifica. Durante il corso di anatomia percorreremo insieme le tappe che ci porteranno a conoscere come siamo fatti. Partiremo dalla cellula, che è la parte più piccola del nostro organismo, fino a guardarlo nella sua totalità. Il corpo umano è una macchina meravigliosa, la macchina più antica che conosciamo e soprattutto la più efficace. Cambiamenti, movimenti, segnali vengono registrati in spazi microscopici e in tempi brevissimi per essere tradotti in quello che altro non è che lo spettacolo della vita. La cellula, i tessuti, gli organi, gli apparati. Durante il corso impareremo a guardare, analizzare e riconoscere ogni struttura e a termine di ogni giornata avremo un momento di confronto. Questo corso è dedicato a tutte le estetiste che hanno fatto del corpo umano l'oggetto del loro lavoro, perché solo conoscendola approfonditamente è possibile migliorarne l'aspetto e soddisfare l'aspettativa del cliente. La conoscenza dell'anatomia diventa quindi una risorsa imprescindibile per ogni estetista consapevole e appassionata.